Un obiettivo importante e un obiettivo ambizioso perché il Masotto è una scuola importante dell'area berica, ma non solamente perché abbiamo 30 comuni e un territorio che va anche dal Padovano al Veronese che portano ovviamente un'attenzione particolare nel nostro comune. Il Masotto ha 1.450 studenti, c'è la necessità di dare degli spazi ulteriori, soprattutto per quanto riguarda i laboratori e quindi la scuola da alcuni anni ci invita, appunto invita gli enti preposti, in modo particolare la provincia, a porre un'attenzione maggiore. Non si tratta banalmente solo di un ampliamento di un edificio scolastico, ma della realizzazione di quella che nell'intenzione degli enti vuole diventare una vera e propria cittadella degli studi, un polo scolastico di riferimento per l'area a sud dei Berici. Il protocollo firmato oggi tra comune e provincia è un passo storico che consolida anche una nuova modalità di cooperazione. Da una parte il comune cede gratuitamente il terreno, dall'altra la provincia si impegna a realizzare completamente l'opera. Sì, è una prassi che si sta diffondendo, è un buon modo di lavorare perché unisce quelle che sono le esigenze dei territori rappresentati dalle amministrazioni comunali con la possibilità e le funzioni fondamentali della provincia che è quella dell'edilizia scolastica. Lo facciamo a Noventa e lo stiamo facendo anche a Breganze per il nuovo scottone. È un progetto innovativo che avrà degli spazi dedicati non solamente per i laboratori, ma delle aule studio e anche una mensa, in modo che i ragazzi possano rimanere anche nel pomeriggio e studiare e fermarsi con gli altri. Inaugura anche un indirizzo nuovo di studio che è stato approvato a livello regionale giovedì scorso che è quello del web community.